Ciao ragazzi, qua siamo con Pachi e Raff Io sono Peppe e sono un loro carissimo amico Solo che quest'oggi Raff e Pachi vogliono dire qualcosa Chi vuole iniziare tra i due? Vuoi fare l'intervista Giuseppe? Si, una special intervista Allora, è vero che tu sei fidanzato? Si, sono fidanzato, infatti porto l'anello a sinistra Fammi vedere Sono trasgressivo, lo porto a sinistra Ah, è trasgressivo, però questo non è un anello È un anello che mi ha detto la realtà È un anello così? Si, la fede non arriverà poi Ah, la fede arriverà quando arriverà, capito? Tieni che la fede, non sei mai solo Buonasera a tutti Lui è Raff, se non avete capito Che nel nostro trio è quello più, diciamo Come posso dire? Che fa pariato Nel senso che è quella persona che ti fa venire Che ti fa ridere Invece Pasquale per la sua ragazza È quella persona che gli fa venire il sorriso sulle labbra Adcomorire, va Ecco Raffaele che Raffaele mi raccomando Mi hai promesso che devi andare a mare domani con me Va bene È una promessa stai su YouTube, mi raccomando Ragazzi, andrà a mare Se non rispetti questa promessa io pubblico tutto su YouTube Va bene In italiano Convinto Uh, eccolo, Gennaro Come convarsa Ciao Ciao Questo è un nostro caro amico Come ti chiami? Gennaro Gennaro Detto Gennarone Ma bravo E prima come ti chiamavi? Oh cazzo Genni Gennaro No Non fa culo No Facile Lui è Antonio che E dovevo finire Gennaro Buongiorno Questo è Antonio che dice sempre le sue stronzate Buongiorno Ancora Gennaro che Facile Facile No Gennaro Basta con le parole Stiamo su YouTube No Non la metto Lo cancello La parte sua Eh, lei va in la mia parte Lo taglio Lo taglio È bravo Allora Raffaele Tu vuoi dire qualcosa? No Vorrei dire Mi raccomando Ragazzi Ora siamo sul programma Di Peppe Paccaro Però Noi abbiamo Un nostro Programma Raffaeppa Mi raccomando Seguiteci Mettete like E E E E E Mi raccomando Ragazzi Mi raccomando Mi seguiteci Buon Arrivederci Buonasera Buona giornata E E tante cari cose Buona giornata Tu vuoi dire qualcosa Per finire Ciao Ciao Allora mi raccomando Segite questi miei due amici Che sono qui Mi raccomando Seguiteli A tutti e due In un solo contatto Perché Non c'entrano In due contatti Mi raccomando Siamo fusi Con la testa Ciao Ciao